Con il sottosegretario da una domanda che ha a che fare con l'Europa, con l'Italia e con quello che l'Italia porta a casa da questo compromesso articolato in 12 punti che con quel termine volontarietà sembra aver comunque messo in crisi l'Italia perché di questo abbiamo parlato per il nostro approfondimento politico a partire dalle 15 con i nostri ospiti che di fatto ci dicevano l'Italia con ben poco torna a casa da questo Consiglio europeo. Volevo sentire la sua su questo, cercare di capire chi ha parlato a Bruxelles, Conte o Salvini. Questa è la mia prima domanda. Ma in realtà ci sofferma tanto su quell'articolo 6 dell'accordo in cui c'è la parola volontario però si fa finta di non vedere che la parola volontario si riferisce soltanto alla creazione di centri d'accoglienza europei che è una condizione accessoria all'accordo nella sua totalità perché l'accordo raggiunge dei risultati importantissimi, tra l'altro mai raggiunti da chi si leva a questo tavolo a fare l'approfondimento politico prima di me. Uno su tutti il fatto che si determina una condivisione delle scelte relative ai soccorsi in mare, quindi alla gestione del Mediterraneo. Fino all'ultima legislatura, quindi con l'ultimo governo, l'Italia era da sola a dover decidere cosa fare sostanzialmente delle barche che portavano i migranti e ovviamente volendo rispettare la legge del mare doveva ovviamente portare in patria tutti i richiedenti che venivano recuperati in mare. Ora invece sarà possibile, come infatti sta già succedendo grazie al nostro pugno duro, ma pugno duro negli interessi dell'Italia ovviamente, di distribuire questi richiedenti sui paesi come Malta, come la Spagna, come la Francia, quelli che in questi giorni avete sentito dire anche nei vostri telegiornali. L'altro punto fondamentale è che si definisce come europeo il diritto all'accoglienza e non soltanto il paese di prima prodossi, in modo molto chiaro, tant'è che la cancelliera Merkel non a caso sta avendo dei problemi in patria, perché se così inutile fosse questo accordo, chiedo a tutti quanti com'è che c'è questo dibattito enorme in Europa oggi. Se guardate la stampa estera, ad esempio, che forse ha meno di quella italiana, il feticismo del vedere nel governo sempre quello che ha fallito, tutti parlano invece di un accordo assolutamente svantaggioso per loro e vantaggioso per il Presidente Conte e per l'Italia. Credo che il punto fondamentale sia che per la prima volta ci si mette davanti alla consapevolezza che in Italia c'è un governo che non accetterà più di essere trattato in un determinato modo e che quindi, anziché fare come è successo in altri paesi, penso ad esempio ai paesi Vicegrad o ad altri, il pugno duro fine a se stesso, dice ai paesi europei fondanti dell'Europa come l'Italia, noi possiamo fare il braccio di ferro, ma vogliamo invece trovare le situazioni condivise. C'è stata una grossa apertura al Consiglio europeo che ovviamente, l'equivoco che non va fatto, segna l'inizio di un percorso. Il Consiglio europeo, nonostante pubblichi le conclusioni, pubblica le conclusioni di un accordo programmatico, poi ovviamente va sviluppato tecnicamente nei mesi a seguire. Io oggi sono stato ad esempio alla celebrazione di tre anni dell'operazione Sofia, l'operazione di contrasto ai trafficanti a guida italiana, con l'ammiraglio Credendino, un'operazione che lavora benissimo, che funziona, e abbiamo ribadito agli ambasciatori europei che su quest'operazione ci vuole massima condivisione, spesa comune, partecipazione reale. Perché? Perché serve a contestare i trafficanti. E tutti gli ambasciatori hanno d'accordo. C'è condivisione tra Salvini e Toninelli, che in queste ultime ore si sono lanciati delle frecciatine a distanza sulla pressione dei porti? Ogni ministro fa il suo lavoro. E soprattutto il Presidente Conte fa la quadra di una visione di governo e la porta avanti. Salvini ha tutta la titolarità di parlare degli accordi militari e sulla guardia costiera, ad esempio, con l'autorità libica. Toninelli ha tutta l'autorità per gestire invece i nostri porti. E il Presidente Conte cerca di ottenere il massimo dai consessi europei, dove sono gli altri leader europei. Se ognuno fa il suo lavoro, questo governo lavora benissimo. E devo dire che finora è stato così. Anche questa voler trovare l'attrito tra i ministri, io sinceramente dall'interno... Che parlano a titolo personale. Io dall'interno non lo vedo. Quando dicono qualcosa che è in dissenso rispetto alla linea della Lega, parlo di diritti civili. Perché c'è sempre una quota politica, ovviamente. Però l'importante è che quando si adono al Consiglio dei Ministri ci sia un'intesa reale. E se guardate quello che si è successo fino ad oggi, sarà sempre così. L'operazione di Salvini in Libia, ad esempio, nasce dopo un confronto nel quale si è ovviamente definito come fondamentale e prioritario dare alla guardia costiera libica gli strumenti per salvare le vite in mare, che per noi rimane una priorità, ma riportarle in Libia, come dice il regolamento. Oggi, dalle immagini che ho visto io direttamente della Marina Militare Italiana, alcune ONG, che sono un po' il caso centrale del dibattito di questi ultimi giorni, una volta raccolti i migranti nelle acque libiche, tra l'altro, li vedevi prendere il volo verso le acque italiane per poter affidarli poi alla Marina Militare. Questo è il cosiddetto pull factor, ovvero l'attrazione a provare la via del mare, che è tutto ciò che noi dobbiamo contrastare. C'è intesa, bisogna ora ovviamente trovare i meccanismi europei che facciano funzionare questa intesa. Libia. Volevo tornare un attimo su questo concetto di volontarietà, perché mi chiedo, e chiedo a lei, se non c'è più nemmeno formalmente, da parte degli altri paesi europei, un impegno all'accoglienza dei migranti, tutti quelli che sono già in Italia, quindi resteranno in Italia, e quelli destinati ad arrivare, perché magari non attraccheranno più le navi dell'ONG, però comunque l'Italia ha alcuni salvataggi li dovrà fare, quindi sono destinati a restare in Italia, perché se i paesi europei non hanno assolto questi obblighi quando c'era il rischio di una sanzione, ora che è affidato alla spontanea volontà, quali margini reali ci sono? Premesso che non c'è mai stato il rischio di una sanzione, perché il regolamento di Dublino non prevedeva alcuna sanzione per chi non prendesse le proprie quote migranti, tant'è che la stessa Francia, di cui tanto Macron è protagonista, era in deficit rispetto alla sua quota aspettante di migranti, quindi non c'è mai stato con il vecchio governo un'obbligatorietà nelle quote. Non c'è neanche con l'ultimo consiglio europeo, ma si introduce un concetto che ancora una volta forse si dimentica di dire, ovvero si predispone una via prioritaria alla stipula di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi di provenienza per i rispingimenti. È evidente che bisognerà affrontare l'argomento di chi è già sul nostro territorio, si stima 500.000 persone non regolari, le vie senza girarci intorno sono due che piacciono o meno, una è i rimpatri volontari, come fa ad esempio la Germania, c'è trovare delle condizioni favorevoli per i migranti, anche irregolari, per tornare al loro paese, e la seconda è il legalizzarli. Il legalizzarli significa capire caso per caso chi è già integrato sul nostro territorio, che magari lavora già da 5-10 anni, come si vuol dire, nell'illegalità, ma di fatto poi totalmente integrato sul nostro territorio, e risolvere il caso singolarmente. Però il problema qui è sul lungo periodo, l'Unione Europea, e questo è un successo di Conte, spingendo sulla necessità di rifinanziare il cosiddetto trasfande alla valletta, quindi il Fondo Africa, garantisce con ulteriori 500 milioni di euro di poter proseguire sui respingimenti volontari, i rimpatri volontari come si è dato finora, e soprattutto con gli accordi bilaterali per i rimpatri. Diciamoci una cosa fuori dai denti, senza soldi non si fanno accordi. I paesi africani in questo momento ricevono quattro volte gli stanziamenti all'interno dell'Unione Europea in rimesse dei migranti, cioè i migranti che stanno sul nostro territorio, mandano ai loro paesi quattro volte quello che noi diamo a questi paesi per fermare i migranti. Quindi non hanno nessun interesse a fermarli. E allora l'Europa deve mettere come priorità i soldi che servono a sistemare la crisi migratoria. E quindi accogliamo come un successo il rifinanziamento del Fondo d'Africa, ma ovviamente non basta. Va portato quantomeno ai livelli dell'accordo con la Turchia di 6 miliardi e reso strutturale. Senta, sottosegretario, mi permetta di fare una domanda e poi chiudiamo, abbiamo un minuto ancora circa. Di Maio dice la linea dura con l'Unione Europea sul tema dei migranti evidentemente è stato solo l'antipasto. Vedrete cosa faremo in tema economico, in chiave economico. Nel giorno in cui un ex ministro dell'economia, Padoan, dice senza coperture l'Europa senz'altro non ci perdonerà. Bisogna temere questa affermazione di Di Maio a proposito di un pugno duro che adesso ha evocato... Ma bisogna temere in realtà la rendevolezza con cui gente come Padoan ha affrontato l'Unione Europea in questi anni. Perché se oggi abbiamo confermatili all'Istat 9 milioni di persone sotto la soglia di povertà e 5 milioni sotto la soglia di povertà assoluta, vuol dire che non hanno il piatto a tavola ogni giorno, è proprio frutto di gente come Padoan. Quindi noi siamo pronti a difendere gli interessi degli italiani e siamo pronti a portare questi interessi ai tavoli europei. Ripeto, con la stessa logica che abbiamo usato con i migranti, non vogliamo andare là a dire con la pistola o ci date questo o facciamo saltare tutto. Vogliamo andare a dire se vogliamo far funzionare l'Europa, a noi questo serve. Perché attenti saremo ancora vittime di paesi, come i paesi vicegrad, che sono addirittura quelli che contribuiscono di meno all'Unione Europea. Cioè noi siamo dei contributori netti, mettiamo più di quello che prendiamo. Loro il contrario, però sembra che per certuni comandino loro. No, noi vogliamo che l'Italia, insieme ai paesi contributori netti, dia la linea, la direzione a questa Unione Europea che è fondata su valori e non soltanto su diritti. Libia. Una cosa velocissima, di stretta attualità. Se ci può confermare il Consiglio dei Ministri di stasera, visto che sul tavolo c'è il decreto che manda in Libia mezzi e soldi di cui parlavamo. Il Consiglio dei Ministri sarà stasera, però sul cosa verrà approvato credo che bisogna prendersi del tempo. Cioè tra oggi e domani sicuramente. Però non è materia mia quella del calendario del Consiglio dei Ministri. Non l'ho sentita. No, però magari lei, insomma, come membra di governo, essendo una materia, l'immigrazione è la sua, poteva comunque conoscerne, insomma, l'ordine del giorno. No, perché l'accordo è del Ministero degli Interni e non è nell'ordine del giorno del Ministero degli Esteri. Comunque è anche quello sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Non so se è oggi o domani, ma lo è. Allora, grazie. Grazie alla nostra Livia Michilli. Io ringrazio il Sottosegretario degli Affari Esteri, Maglio Di Stefano. Grazie per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito.